Secondo noi la Corte d'Assise d'Appello di Firenze dovrà giudicare e assolvere Padre Graziano a prescindere dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Se questo passaggio può essere un po' ostico alla Corte d'Assise d'Appello, che benvenga anche la rinnovazione delle attività di indagine come noi abbiamo prospettato e richiesto. Hanno già delineato la propria strategia difensiva gli avvocati di Padre Graziano, Francesco Zaccheo e Rizziero Angeletti. Prenderà infatti avvio il 14 dicembre il processo al frate congolese di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze e il religioso era stato condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. I legali di Padre Graziano chiederanno infatti la riapertura della fase istruttoria. Se la richiesta dei legali del religioso dovesse essere accolta potrebbero essere dunque ascoltati nuovamente alcuni testimoni. I giudici fiorentini inoltre hanno accolto la richiesta della difesa di consentire al sacerdote congolese di raggiungere Firenze senza scorta. Padre Graziano che attualmente si trova agli arresti domiciliari nel convento romano dell'ordine premostratense sarà accompagnato in auto dal proprio avvocato. Infine l'accusa sarà rappresentata in aula da Luciana Piras della Procura Generale affiancata da Marco Dioni, sostituto procuratore di Arezzo, lo stesso che aveva ottenuto la condanna a 27 anni del religioso davanti alla Corte d'Assise. Dioni dunque affiancherà nell'aula dell'appello il PM fiorentino in funzione di supporto. Porto Porto